Dopo il successo di Lovin Vincent, torna al cinema il genio di Van Gogh, con un film evento unico ed emozionante. Tutti i capolavori del Kroller Müller, il museo voluto da una donna eccezionale. E per la prima volta scopre al cinema la mostra di Vicenza. Van Gogh, tra il grano e il cielo. Al cinema solo il 9, 10, 11 aprile. Info e biglietti su nexodigital.it Info e biglietti su nexodigital.it